E poi voglio porgere un ringraziamento particolare, e voi me lo considerate, a due persone. Una è il nostro capogruppo Renato Brunetta, la cui passione unita alla competenza, alla realtà e a una capacità di lavoro straordinaria, ne fanno un combattente di primordine, una delle figure centrali nel nostro movimento. E l'altra persona è Niccolò Chedini, che non è solo un grande professionista e un bravissimo dirigente politico, non è solo un consigliere saggio e prezioso, Niccolò è prima di tutto un vero, grande, sincero amico.